il genitore deve tollerare questa cosa perché è una fase necessaria nella crescita infatti l'errore che fanno ultimamente ultimamente ormai da un po di tempo i genitori che cos'è che viviamo in quest'epoca della campana di vetro e i genitori danno rassicurazioni prima che il bambino provi questo senso di disagio e ritorni in maniera autonoma cosa vuol dire dare rassicurazioni se io ho paura che il bambino si faccia male lo accompagno loro lo porto per mano non ti allontanare queste qua non sono sgridate sono semplicemente delle rassicurazioni perché lo vogliamo proteggere ma la rassicurazione c'è stata quando non c'è stato un reale bisogno di essere rassicurati ci siamo questo è molto importante perché ha voluto passare da qua perché lo stesso meccanismo viene fatto quando un uomo conosce una ragazza ok la conosce perché lei si è allontanata perché molto probabilmente c'è stata un'interazione molto piacevole una sera avete conosciuto questa ragazza qua subito dopo la sera mattina seguente li avete subito mandato il messaggio è stato bello conoscerti mi ha fatto piacere stare con te quella lì è una rassicurazione senza il bisogno cioè non c'è stato il vero bisogno da parte della donna e questa cosa è una cosa che la donna sia uomini uomini che donne si portano dietro ok ovviamente l'uomo perché da queste rassicurazioni perché probabilmente che non vede l'ora di vederla probabilmente perché è in ansia perché aspetta una di scopare insomma magari ha scopato non vede l'ora di scopare perché è bello è bello scopare ok ci siamo il fatto che cercare dare questo questo mandare questo messaggio a una donna fa piacere non diciamo di no però non scatene in lei il bisogno di ricevere quella rassicurazione perché la rassicurazione è stata data prima del bisogno ci siamo quindi una donna che si allontana bisogna usare la stessa psicologia grazie 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 grazie